Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi vi presento CoSpaces, un'applicazione che permette di creare attività e scenari interattivi in realtà aumentata e in realtà virtuale. Con questa applicazione si possono creare storie interattive, progettare presentazioni virtuali su determinati argomenti, programmare giochi e simulazioni in 3D senza la necessità di scrivere alcun codice, perché tutto questo viene reso possibile dalla codifica a blocchi. Si può utilizzare CoSpaces sia come web app, quindi accedendo tramite il proprio browser, oppure la si può scaricare anche su Android e iOS, oppure può essere utilizzata come applicazione per Windows. Per utilizzare l'applicazione è necessario registrarsi oppure effettuare il login e se si acceda alla piattaforma come studenti è necessario essere in possesso del codice fornito dall'insegnante per partecipare alla classe. Questa è la dashboard del proprio account che appare dopo aver effettuato l'accesso. Qui è possibile andare a creare dei propri co-spaces o visualizzare quelli già creati, gestire o eventualmente creare le proprie classi nel caso in cui si è effettuato l'accesso come insegnanti, oppure visualizzare la galleria dei prodotti creati dagli altri utenti. Ogni volta che si vuole creare un co-space da zero apparirà questa schermata che è la schermata di editing. Come vediamo la schermata è vuota e quindi l'applicazione ci dà la possibilità di andare a popolare la scena a nostro piacimento tramite questo menu qui in basso in cui è possibile andare a inserire una serie di oggetti ed elementi, caricare file, immagini, modelli 3d, video e audio o dal proprio pc oppure ricercandoli sul web e poi di andare a mettere uno sfondo nel nostro ambiente inserendo appunto delle immagini oppure dei colori o aggiungere anche dei suoni di sottofondo. Vediamo poi che all'interno del nostro ambiente noi ci possiamo muovere, lo possiamo ruotare, ci possiamo avvicinare agli elementi e gli elementi stessi poi possono anche essere spostati, ruotati, ridimensionati tramite il menu che appare ogni volta che si clicca su un elemento. Se poi per esempio vogliamo creare più di una scena e quindi creare una storia interattiva andremo su questo menu a comparsa, cliccheremo sulla prima opzione e vedremo che sarà possibile andare a inserire nuove scene. Con la seconda opzione invece vediamo che è possibile andare a selezionare i singoli elementi, eventualmente anche rinominarli e inserire per esempio delle finestre di dialogo, delle animazioni oppure anche cambiare i colori. Si possono far eseguire anche dei movimenti agli oggetti. Per farlo basterà cliccare sull'oggetto a cui vogliamo fare eseguire i movimenti e andare sulla voce codice abilitando poi queste due voci. Dopodiché bisogna andare sempre sulla voce codice però qui in alto, nel menu in alto, e selezionare il proprio linguaggio di programmazione. In questo caso scegliamo la codifica a blocchi e tramite questo menu andremo a selezionare quello che vogliamo che il nostro elemento faccia. Quindi per esempio se vogliamo che svolga un'azione trascineremo questo blocco di codice nella schermata bianca. Qui ci permette di selezionare l'elemento a cui vogliamo far svolgere questa azione, in questo caso l'azione di dire ciao, e vedere il risultato finale cliccando su riproduci. Una funzione interessante è che i blocchi possono essere incastrati tra di loro. Per esempio scegliendo quando Regular Woman si clicca sopra a Regular Woman vogliamo che venga detto ciao, quindi inseriamo l'azione all'interno di questo blocco e successivamente cliccando su riproduci vediamo che se clicchiamo su l'elemento effettivamente questo svolge l'azione che abbiamo programmato. Abbiamo visto quindi che EcoSpaces è una piattaforma molto semplice da utilizzare ma che permette comunque di creare, codificare ed esplorare i propri mondi virtuali. Inoltre l'applicazione permette agli insegnanti di creare delle classi e gestire le creazioni dei propri studenti che a loro volta possono collaborare tra loro e visualizzare il loro lavoro in tempo reale. Il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti! Grazie a tutti!